ciao ragazze bentornati ad un nuovo video questo sarà un video delle 20 domande 20 domande su youtube non so è un tag io arrivo sempre a scoppio ritardato volevo farmi conoscere un meglio quindi iniziamo subito 1 perché hai cominciato a fare video su youtube allora ho iniziato perché ero a casa perché non trovavo lavoro l'avevo perso e niente dopo quasi 9 10 mesi che non trovavo lavoro ho pensato bene di voi era da un po che guardavo già i video su youtube e ho detto perché non provare anche io uno mi occupava del tempo due avevo saputo di questa cosa che uno poteva tenere la partnership adesso non voglio dire bugie ma in quel momento non guadagnando ho detto vabbè perché magari non trovare un lavoro alternativo se non lo trovo e qui a torino visto che stavo facendo mille colloqui non ne passa uno detto magari tramite youtube posso iniziare comunque a guadagnare qualcosina è difficilissimo ve lo dico ragazzi quindi non è che dovete farlo perché perché volete guadagnare perché non si guadagna almeno io attualmente non guadagno quindi è nata un po così per caso due qual è stato il tuo primo video è stato l'anno scorso è stato quello delle rose con gli stampini se non sbaglio avevo iniziato con il concorso di michelinia avevo fatto un video del concorso di natale e quindi poi era solo un video di tre secondi per far vedere le unghie e allora ho detto iniziamo a fare i tutorial ma veramente i primi tutorial non si possono guardare un po il montaggio un po come li ho ripresi come ti sei scelta nickname premetto che ho dovuto cambiarlo allora la prima volta era steline xxx è un nome un po strano sembra tutt'altro quindi mi dicevano tutti cambialo perché non solo avevo messo otto anni fa perché non stella era occupato stella 88 le solite cose erano occupate ma si è una cosa un po strana ma forse più troppo e allora ho detto magari meglio che lo cambiamo io ho deciso di cambiarlo in stellina naves che dio che fantasia però vabbè mi piace fare le unghie quindi chi è ispirata a cominciare il tuo percorso su youtube come ha detto già in qualcuno in qualche video grazie al primo tutorial di madda di madda fashion è stata lei ancora prima di crio io non seguivo crio perché non mi truccavo tantissimo quindi mi che rigna l'ho conosciuta dopo la prima 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 è stata madda con un tutorial sui fiori e la farfalla sul medio me lo ricordo ancora era la prima da cui ho preso proprio ispirazione quindi poi averla conosciuta è stato per me c'è la sento tuttora magari poche volte però la sento quindi mi fa veramente piacere 5 chi ritieni sia un riferimento per chi vuole diventare immagino uno youtuber secondo me non ci sono dei riferimenti ogni youtuber c'è un suo carattere c'è una sua personalità quindi boh qualsiasi qualsiasi youtuber boh c'è la sua a me fa piacere che gli akamete siano diventati così famosi in quanto luca veniva era mio compagno delle elementari quindi vedere che sta facendo successo e che lo vedono li vedono veramente come dei litri mi fa veramente piacere conosco anche matteo perché sono del mio paesino è intenzione di collaborare con altri youtuber sì mi piacerebbe tantissimo collaboro già con le mie compagnie di nailab ho collaborato con un'altra ragazza mi piacerebbe collaborare con madda mi piacerebbe tantissimo e magari chissà con michelin con quelle che seguivo da tanto quindi loro in assoluto mi piacerebbe poi io sono aperta a tutte le collaborazioni ovviamente in base al tempo le apparecchietture indispensabili per noi youtuber l'ho imparato da poco sono avere una buona telecamera io me la sono presa da poco in full hd non è delle migliori perché costano tantissimo però diciamo che è giusto cioè fa al minimo cioè fa il suo dovere ho preso da poco le luci anche queste ho capito che sono indispensabili soprattutto se io faccio video in una mansarda molto piccola con una finestrella solo che non è sempre illuminata quindi vabbè le cose per montare io ho un mac con final cut quindi sono le cose principali secondo me per fare dei buoni video d'alta qualità 8 il tuo video migliore il mio video migliore non lo so sono così brava a parlare sono ancora molto timida quindi non sono non lo so non penso di avere un video migliore neanche un video tutorial però posso dire quello che ha più visualizzazione attualmente quindi magari posso ritenerlo come video migliore che è quello della tigre che ho fatto nei lab forse magari per il fatto che ha vinto la puntata e per il fatto che sia di nei lab magari sta ottenendo più visualizzazioni per quello però intanto è il mio video migliore attualmente 9 il tuo video peggiore il mio video peggiore è uno di quelli degli inizi che non mi facevo vedere non parlavo 10 dove trovo l'idea per i tuoi video navigando su youtube le immagini che ci sono su internet 11 la cosa più bella di essere un youtuber di avere tante ragazze che ti apprezzano che riconoscono quello che stai facendo anche perché per me ok è un hobby però è veramente c'è a volte pesante perché ho un lavoro full time ho una vita sociale cioè esco con amica esco con il ragazzo quindi a volte mettersi ancora la sera o il sabato a girare video a montarli può diventare un po pesante però avere delle ragazze che magari che ti seguono ti sostengono questo secondo me la cosa più bella poi appunto è la possibilità di conoscere veramente tantissima gente 12 la cosa più brutta di essere noi youtuber iniziare a tenersi pronta per le critiche negative e magari non costruttive perché io ovvio non è che puoi piacere a tutti e non è che tutti devono dirti che bella hai fatto un capolavoro magari in tante ti criticheranno penso che le cattiverie che dicono a volte su youtube o su internet a gratis solo perché sei sul culo una persona senza che ti conosca è proprio una cosa bruttissima ce ne sono di cattiverie che girano e quella può essere l'unica cosa negativa 13 sei mai stato riconosciuto dal vivo no per ora non ancora e non è che ho tutto questo successo quindi no 14 hai mai ricevuto segnalazioni per violazioni di copyright segnalazioni no youtube mi aveva tolto ai tempi un video che boh non l'ho più messo pazienza 15 cosa pensi della community italiana seguo tanti youtuber è successo che stanno facendo e mi piacerebbe anche che sa incontrare prima o poi che io dove qualcuno l'ho già incontrato e altri mi piacerebbe incontrarli 16 mai ricevuto un commento di spam miliardi ce ne sono un sacco sotto i miei video 17 quanto ci metti ad editare un video dipende dipende dal video se un video chiacchiericcio e che non richiede tanto tanto editing ci metto anche poco avendo solo le sera a disposizione tipo dalle 9 alle 11 mezzanotte perché devo andare a dormire cioè ci metto magari qualche sera e ci metto abbastanza 18 quando lascerà youtube però non ci penso neanche poi magari chissà 19 che rapporto hai con i tuoi iscritti però con quelli che mi seguono di più un rapporto bellissimo mi seguono in tante sono sempre le stesse che mi dicono di più però pian piano ne arrivano delle altre e iniziano a conoscerti la cosa più bella che mi dicono è che di continuare così da una parte sono troppo timida e forse dicono che questa mia timidezza e semplicità è la cosa positiva magari dei miei video però da una parte vorrei sbloccarmi cioè io non mi preparo i video prima non mi preparo i discorsi non ho scalette forse questo non potrà essere sempre positivo cioè secondo me ragazze così semplici come me magari non verranno sempre notate con bellissimo rapporto 20 segreti di un canale di successo non ve li posso dire perché non ho un canale di successo quindi niente chiudo dicendo che che il video è finito che non ho un canale di successo grazie per la vostra pazienza ad averlo visto pian piano prometto di fare video chiacchiericci per farmi sempre conoscere di più vi chiedo sempre di spolliciare se il video vi è piaciuto e di lasciare qualche commentino io vi ricordo tutti i miei riferimenti all'interno dell'info box e niente direi che ho detto tutto vi saluto vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video ciao